Pace bene e bentornati. Oggi, 17 agosto, ricordiamo Santa Chiara da Montefalco. Ascoltiamo. Chiara nacque a Montefalco, in provincia di Perugia, nel 1268. Fin dall'età di quattro anni mostrò una così forte inclinazione all'esercizio della preghiera da trascorrere intere ore immersa nell'orazione, ritirata nei luoghi più riposti della casa paterna. Sin da allora ella ebbe anche una profonda devozione per la passione di Gesù e la sola vista di un crocifisso era per lei come un monito di continua mortificazione che compiva con dolorosi cilici. Consacratasi interamente a Dio, Chiara volle seguire l'esempio della sorella Giovanna, chiedendo di entrare nel locale reclusorio dove fu accolta nel 1275. Si diede da fare per costruire un nuovo monastero che, a causa dell'aumento delle vocazioni dovuto alla sua presenza e alla sua testimonianza, era diventato oltremodo necessario. Fu interessato il vescovo Gerardo Artesino che, oltre alla costruzione del monastero, riconobbe la nuova famiglia religiosa, dando ad essa la regola di Sant'Agostino ed autorizzando in pari tempo l'accettazione di novizie. Il novello monastero fu chiamato della croce, su proposta della sorella di Chiara, Giovanna, che ne venne subito eletta badessa. Alla morte di quest'ultima, Chiara fu chiamata a succederle nella carica, contro la sua volontà e nonostante la giovanità. Durante il suo governo, seppe tenere sempre vivo nella comunità, con la parola e con l'esempio, un gran desiderio di perfezione. Ebbe da Dio singolari grazie mistiche, come visioni, estasi e doni soprannaturali, che profuse dentro e fuori il monastero. Tanta era la fama di sé e delle sue virtù, suscitate in vita da Chiara, che subito dopo la morte, avvenuta nel suo monastero della croce in Montefalco, il 17 agosto 1308, fu venerata come santa. Un avvenimento veramente particolare accadde dopo la morte di Santa Chiara da Montefalco. Vogliero, insomma, preservarne il corpo e iniziò ad essere sottoposto a dei trattamenti. Vediamo cosa scrive il biografo. C'erano dentro il cuore, in forma di duri nervi, di carne, da una parte la croce, tre chiodi, la spugna e la canna, e dall'altra parte la colonna, la frusta e la corona. Nel sacchetto del fiele vi si trovavano tre pietre rotonde, in tutto uguali, che rappresentavano verosimilmente la Trinità. Il corpo di questa donna, che inizia veramente a contenere fisicamente i segni della passione e del dolore di Cristo. Chissà che cosa potrebbero trovare nel nostro cuore in questo momento. Cerchiamo di farci noi questa biopsia da vivi. Cerchiamo di scoprire effettivamente che cosa sta battendo nel nostro cuore, che forma abbia preso il nostro cuore. È la forma di Cristo, è la forma di una persona che ama? Oppure c'è qualche altra forma? Ad ognuno, oggi pongo questa domanda da affrontare non con superficialità, ma da affrontare in maniera molto molto intensa. E con questo compito vi auguro una buona giornata sotto l'intercessione della Santa Chiara da Montefalco che preghiamo.